Violenza di gruppo a San Mauro Cilento per i tre ragazzi condannati in terzo grado si sono aperte le porte del carcere. I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano mennato Malgeri, hanno tratto in arresto Pierpaolo Cilento, Daniel Guariglia e Valerio Martucci, dando esecuzione agli ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Vallo. I fatti risalgono al 2010, allora quando, in concorso tra loro con violenza, i tre costringevano una ragazza del posto a subire atti sessuali. Secondo quanto appurato, nel corso delle indagini, i tre fecero salire una loro amica sul sedile posteriore di un'auto, con la scusa di andare a prendere qualcosa da bere da Ciaroli. Ma durante il percorso svoltarono in una strada di campagna. Qui, senza che la ragazza avesse possibilità di divincolarsi e scendere dall'auto, si consumarono palpeggiamenti nelle parti intime, nei confronti della giovane. A pronunciare la sentenza, lo scorso 16 dicembre, è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di primo e secondo grado di condanna di quattro anni di reclusione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati quindi tradotti presso la casa circondariale di Vallo a disposizione dell'autorità giudiziaria.